Ok, tre semplici miniature che puoi realizzare in pochissimo tempo su Canva che soprattutto vengano cliccate. Vieni con me! Siamo nella nostra home page di Canva. La prima cosa per iniziare subito a creare la nostra miniatura personalizzata è andare su Create Design, scrive YouTube e in automatico Canva ci dà delle opzioni. Quella che ci interessa a noi è YouTube Thumbail. Ci dà un 1080x720. Tu puoi tranquillamente utilizzare questa o creare una versione custom size con dimensioni personalizzate se la vuoi più grande, di più qualità. Ma in linea generale va benissimo quella che ci offre Canva. Quindi clicchiamo e andiamo a lavorare immediatamente con la nostra miniatura. La prima tipologia di miniatura che andiamo a creare è quella utilizzando immagini stocks. Quindi andiamo su Photos o su Template se vogliamo iniziare subito con un template. E per esempio abbiamo fatto un video sulla fotografia quando si viaggia. Questo è un perfetto esempio di template che possiamo utilizzare. Quindi ci clicchiamo e lui in automatico ci va a creare già la miniatura di base. Fotografia di viaggio, 8 trucchi e consigli semplici. Potrebbe andare già benissimo così. Se a me piace così, io la lascio così, clicco su Share, Download, seleziono il tipo che è PNG che va benissimo e clicco Download. Se invece c'è qualcosa che voglio cambiare, inizio a modificare quello che voglio. Per esempio, a me mi piace questo stile grafico però non mi piace l'immagine. Allora cosa faccio? Vado su Photos, scrivo Fotografia, anche in italiano, basta che hai la versione italiana. Scrivendo Photography normalmente ti trova più foto interessanti però va benissimo anche così. Clicco su questa, la vedo, non mi piace, cancello. Questa potrebbe essere interessante. Allora cosa faccio? Tolgo la prima e ci metto questa immagine qua. La seleziono, la porto avanti in modo che stia in tutta la pagina. Quando sono contento del risultato la metto come sfondo e qui posso anche iniziare a cambiare il colore. Come puoi vedere devo mettere un colore che si veda. Ok, per esempio qui però io posso fare un flip, cioè zio l'immagine perché voglio che la foto sia così. È troppo grande quindi diminuisco, porto per esempio a 90. Vedi che qui è un gruppo quindi io faccio un group, quindi tolgo il gruppo così posso lavorare tranquillamente. Porto tutto, tutto più basso e anche diminuisco questa linea. Così. Verifico che mi piaccia il tutto. Posso fare così. E importo. Ok, qua ci siamo. Se sono contento share, quindi condividi, download e scarico. Se invece non sono contento inizi a lavorare sempre di più aggiungendo un testo o cambiando con un elemento. Per esempio posso scrivere foto qui, vado su graphics, voglio solo un'immagine del genere. Clicco e le metto qui per darti un esempio. E posso abbellire come meglio credo per rendere la miniatura molto bella. Seconda tipologia di miniatura. In questa seconda tipologia di miniatura andiamo ad utilizzare una foto che abbiamo creato ad hoc di noi, quindi con la nostra faccia. Io qui ne ho già alcune. Per esempio prendo questa perché voglio parlare di un viaggio che ho fatto. E da qui inizio a creare il tutto. La voglio utilizzare come sfondo, quindi la porto qua. Voglio che io sia a un lato. Cosa succede? Faccio così. Quando la dimensione diventa uguale a tutto il contenuto del progetto in automatico va come sfondo. Quindi clicco destro e tolgo dallo sfondo. Adesso semplicemente aumento la grandezza. In mania che sia molto grande. Mi metto a questa altezza e seleziono così. Ok. Adesso mi sposto un po' più in basso. E sono contento di com'è. Aggiungo un testo bello grande. Quindi un headline. 5 trucchi che ho imparato in Argentina. Ma è un esempio che mi sto inventando al momento. Metto qui che c'è uno sfondo chiaro, quindi ci sta questo colore, ma se voglio lo posso cambiare. Quindi metto un po' il colore che preferisco. Vedi? Qui posso scegliere con tranquillità quello che va meglio per me. Comunque lascio questo. Se voglio cambiare il font, metto qui e seleziono quello che per me è meglio. Per esempio metto questo qui. Voglio più vicino. Quindi porto la linea dello spazio a 1. in maniera che sia tutto più accorpato. E sono a posto. Voglio abbellire ancora di più. Qui posso mettere tipo uno zaino. Giusto per far capire il discorso dello zaino, del viaggio. E lo metto anche così. Bello grande. Vediamo. Non posso mettere così. Posso anche cliccare qui, che è l'allineamento. E lo sposto qua. Quando sono soddisfatto, siamo a posto. Possiamo scaricare come abbiamo fatto prima. Terza tipologia di miniatura è quella che utilizziamo uno screenshot del video. Quindi andiamo a vedere il nostro video. Stoppiamo in un momento preciso e facciamo un'immagine di quello che vediamo sullo schermo. Qua io mi sono già preso un'immagine fatta dallo schermo. La seleziono. Quindi un clicco. E da qui inizio a lavorare esattamente come prima. Posso direttamente set images background. Quindi imposta l'immagine come sfondo. E da qui poi posso fare un po' quello che più mi piace. Una cosa importante. Nella versione pro di Canva c'è una funzione che è bellissima. Quando clicchi su Edit Image, BG Remover, Background Remover. Ci clicchi e funziona in maniera incredibile. Perché anche in condizioni non ottimali Canva fa un lavoro veramente molto molto buono. Ecco qua che mi ha tolto tutto lo sfondo e ha lasciato solo me. Se non mi piace io posso cliccare su Restore e come puoi vedere io aumento la dimensione di questo. Se voglio per esempio questa parte qua. Vedi? Io la clicco e lui me la rimette esattamente come a prima. Se voglio una cosa del genere. Quindi posso decidere cosa fare. Se invece voglio lavorare di fino perché non mi è piaciuto o c'è qualcosa da sistemare e voglio cancellare di più. Clicco su Erase. Quindi su Cancella. Diminuisco la grandezza. E vado, vedi, a lavorare così. Eccetera eccetera. Quando sono soddisfatto io qui posso anche vedere com'è il taglio. Adesso lo cancello perché andava bene così per me. Applico e in automatico io ho me stesso con lo sfondo che posso fare quello che voglio. Voglio uno sfondo diverso. Allora mi tolgo innanzitutto. Vado su Background che sono qui. Se non c'è niente che mi aggrada, qui posso andare direttamente nelle foto. Scrivo Office. E facciamo finta che faccio questo sfondo. Metto come sfondo. E qui ho io con lo sfondo e posso decidere che cosa andare a creare. Mi posso spostare anche più al centro. Qui c'ho il computer e qua ci metto delle scritte. Se non mi piace io posso sempre prendere, fare un flip, spostare tutto dall'altra parte. Mettere la scritta di qua. Se mi piace così, perfetto. Altrimenti posso decidere di fare qualcos'altro. Creiamo con un'altra immagine. E per esempio, ecco questa bellina. Un'altra cosa, attenzione, che si può fare sempre è in elementi. Togliamo qui e andiamo su Frames. Sono le connici che possiamo scegliere. Clicchiamo, trasciniamo dentro e voilà. In automatico viene fuori un effetto molto caino. Possiamo sempre mettere un altro colore di sfondo. Oppure, se ci piace, lasciamo bianco. Ecco, alcuni tips che voglio darti velocemente quando realizzo una miniatura. Cerca di utilizzare scritte abbastanza grandi. Quindi, adesso sono al 79%. Io posso andare anche al 25% a vedere. Ok, si legge abbastanza bene. Come puoi vedere, tra queste tre, si vedono in tutte e tre. Qui si legge molto grande questa e quindi d'impatto si vede di più. Quindi, ricordati questa cosa qui. Magari qua io decido di aumentare un po'. Foto a 80%. Aumento. Io posso anche diminuire me stesso per farmi stare dentro. Organizzare. E posso anche impostare la linea più piccola. E l'allineamento. Ok. Mi abbasso un po' questo. E sono a posto. Organizzare il lavoro. Secondo tip. Quello di, se hai la possibilità di creare delle immagini di te, se è un brand personale, perché di solito o è scenica la miniatura o comunque, mi piace vedere una persona che stanno parlando con una persona, interagendo con una persona. Quindi una tua immagine ottima, magari che esprime un po' di emozioni. Tristezza, felicità, curiosità, paura, qualsiasi cosa. L'importante è che sciusciti emozioni. Un altro trucco che voglio darti è quello di utilizzare anche dei font non super mega ultra particolari, ma molto lineari, grossi, in modo che si vedano. Quindi, per esempio, anche se magari questo è bellissimo, ecco, non si capisce molto con questo qui. Quindi, prediligi quelli più grandi, quelli più semplici da leggere. Dopodiché c'è la questione del colore. Anche lì dipende sempre da che cosa vuoi fare, come lo vuoi fare. Tu puoi decidere di impostare il tuo canale in diversi modi e quindi anche la tua miniatura di branding. Per esempio, se tu hai un colore molto scuro, puoi utilizzare questo colore in tutte le tue miniature o comunque cercare di utilizzare dei contrasti. Ok, se il video ti è piaciuto, lascia un like, lascia un commento dicendomi cosa vuoi vedere per il prossimo invece video e iscriviti al canale attivando la campanellina in modo da non perderti nessun video. In più, qua puoi trovare anche una playlist sul video editing che è molto importante quando ovviamente vai a realizzare contenuti a video per tutti i social. Se vuoi dargli un'occhiata, eccolo qui. Noi intanto ci vediamo nel prossimo video. Noi intanto ci vediamo.